Ringrazio lei, siete stati preziosissimi e importanti e spero di venirlo a trovare presto, Presidente. Grazie mille, Presidente. Arrivederci, grazie, Presidente. Sono assolutamente d'accordo e la ringrazio per questa opportunità. Ci vediamo presto, Presidente. Grazie, grazie, arrivederci, grazie, grazie. Che dice Berlusconi? Era molto compiaciuto di questa vittoria, ci incontreremo, ci vedremo e ha apprezzato molto il passaggio direttamente al primo turno.